E ora siamo all'appuntamento con il caos di Meghi, ci colleghiamo con Claudia Maggiorana. Ciao Claudia! Andavo a cento all'ora! Ciao Gloria! Grazie per la linea Spunti e Spuntini e benvenuti alla puntata del caos di Meghi. Apro con questa piccola, tra virgolette, introduzione di Andavo a cento all'ora del nostro cantante Gianni Morandi perché oggi voglio parlarvi un po' di quello che è il nostro lato nascosto che viene fuori quando abbiamo queste splendide giornate piene di sole con temperature e meti. E come sappiamo siamo subito pronti ad uscire e andare a fare jogging, fitness, palestra, ma soprattutto lunghe camminate e ci immedesimiamo anche nel campo della corsa. Oggi vi voglio parlare proprio della corsa perché è stato un weekend veramente ricco di impegni, un weekend dedicato allo sport, anche al concetto di inclusione per un progetto che si chiama Uniti per lo Sport, dove varie associazioni si sono ritrovate nel palazzetto della grande Sir Saftey Volley Perugia e hanno condiviso una giornata di allenamento con ragazzi e ragazze che sono portatrici di disabilità. Quindi si parla di sport anche di inclusione perché è fondamentale cercare di andare oltre e di capire che quello che può essere anche un'attività motoria può essere distribuita per tutte le persone, è vissuta ognuno nella sua maniera e ogni persona può veramente ricavarci un punto di forza, anche come è successo proprio a me. E invece, altro grande traguardo anche di questo weekend è stata la grande maratona di San Valentino, cara Gloria, devi sapere, che si è tenuta a Terni, dove ci sono stati all'incirca 1600 iscritti. Una grande maratona fatta da professionisti ma anche da amatori che si sono cimentati nei 21, nei 42 chilometri, nei 10 chilometri competitivi, negli 8 e nei 5 non competitivi, quindi dedicati gli ultimi due alle famiglie. Poi avevamo anche la presenza di coppie in gara, quindi di persone che gareggiavano in due, la coppia che arriva al traguardo viene poi premiata e infine appunto gli amatori, i professionisti e anche i non competitivi. Allora, ma quello che vi voglio dire oggi è questo, bisogna comunque anche nel caso del nostro sport avere un abbigliamento consono all'attività sportiva che si va a fare. Nel caso della corsa ci sono varie filosofie, c'è chi predilige correre diciamo e quindi come anche professionisti spalmando un olio riscaldabile sulla propria pelle che vada a tenere caldo il corpo e correre con cannottiera o top e shorts e chi invece decide un pochino come gli amatori di vestirsi un po' di più. E allora entriamo in questo mondo di colore dove troviamo una miriade di elementi che si possono comporre. Allora, innanzitutto molto utile, te lo voglio far vedere, è questo che io adesso l'ho indossato in testa. Questo ha una doppia funzione, può essere sia una fascia che noi possiamo mettere per capelli ma anche come vedi qui nel basso uno speciale scaldacollo. A seconda di come ci serve lo possiamo indossare. Possiamo iniziare anche il nostro allenamento utilizzandolo innanzitutto come scaldacollo e poi passandolo sopra la testa e mettendolo come fascia se non vogliamo sentire l'aria e la brezza che ci dia fastidio tra i capelli. I capelli di solito vanno sempre legati quindi si fa una bella coda in modo da avere una massa alta dei nostri capelli che ci accompagna nel mondo della corsa. Io sono amante anche degli occhiali e come vedi indosso un paio di occhiali con lente trasparente che anche nel caso poi del sole si scuriscono ma riescono a permettermi di correre bene e non mi danno alcun tipo di sostegno in quanto non tollero molto il vento. Altri elementi importanti possono essere i guanti che ce ne sono di vari e diversi tipi e questi appunto possono essere utilizzati anche all'inizio del nostro riscaldamento proprio per via della circolazione. La cosa più bella e fantastica sono le calze. Allora sulle calze posso aprire un mondo a parte perché ne esistono veramente tantissime di tante varietà, di tante fantasie e sono anche un po' quelle che mi aiutano di più ad esprimere questo lato creativo. Queste sono delle calze fatte apposta sempre in aiuto di quello che è anche un discorso di circolazione soprattutto se poi dobbiamo fare tanti chilometri perché ci dobbiamo ricordare Gloria che ci sono persone che corrono veramente tantissimi chilometri quindi 42 chilometri sono veramente tanti e magari un paio di calze che possa aiutare per la circolazione è fondamentale. Altro elemento importante possono essere i scaldabracci e questi anche si possono utilizzare mettendo una maglietta con maniche corte però lasciando poi anche il braccio coperto per la circolazione e comunque anche per un aiuto per quello che è la prima parte diciamo del nostro riscaldamento un giacchino antivento che fa sempre comodo e anche qui possiamo averne vari di vari colori e di varie mode e poi per gli amanti diciamo di tenere tutte le cose in ordine abbiamo i marzupi piatti e questi sono molto importanti perché aderiscono ma ti lasciano perfettamente correre in quanto sono leggeri e non pesanti. Detto questo direi che siamo pronti per andare a fare il nostro giorno di allenamento per immeggerci in questa natura con queste temperature primaverili che ci vengono donate e mi ricordo una mente allenata e un corpo allenato fa una buona giornata ma soprattutto ogni volta che si arriva ad un grande targuardo esce sempre il campione che è in noi Ciao Gloria, grazie per la linea e per la trasmissione Spunti e Spuntini e ci vediamo alla prossima per il caos di Maggie Ciao, alla prossima! Ciao Claudia e già ti vediamo correre con il marsupio e gli unicorni che secondo me deve diventare un must Grazie, grazie a te e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito Spunti e Spuntini termina qui ma torna domani alle 13.15 e alle 19 vi lascio con gli altri programmi di Teletruria Ciao a tutti!